10. Urlavano così forte che ci hanno svegliato. C'eravamo abituati a tutto. Alle riunioni notturne, al rumore, alla voce alta, ai piatti rotti, ma ora urlavano troppo. Perché strillano così? Mi ha chiesto Maria, stesa sul suo letto. Non lo so. Che ore sono? Tardi. Era notte fonda. La stanza era buia ed eravamo in camera nostra, svegli come grilli. Falli smettere, si è lamentata Maria. Mi danno fastidio. Digli di strillare più piano. Non posso. Cercavo di capire che dicevano, ma le voci si mischiavano. Maria mi si è sdraiata accanto. Ho paura. Loro hanno paura. Perché? Perché urlano. Quelle urla erano come i soffi dei ramarri. I ramarri, quando non possono più scappare e li stai per prendere, spalancano la bocca. Si gonfiano e soffiano e cercano di farti paura perché loro hanno più paura di te. Tu sei il gigante e l'ultima cosa che gli rimane è cercare di spaventarti. E se tu non lo sai, che sono buoni, che non fanno niente, che è una finta, non li tocchi. Si è aperta la porta. Per un istante la stanza si è illuminata. Ho visto la figura nera di mamma. E dietro il vecchio. Mamma ha richiuso la porta. Siete svegli? Sì, gli abbiamo risposto. Ha acceso la luce sul comodino. in mano stringeva un piatto con del pane e del formaggio. Si è seduta sul bordo del letto. Vi ho portato da mangiare. Parlava piano, con la voce stanca. Aveva le occhiaie, i capelli in disordine ed era sciupata. Mangiate e mettetevi a dormire. Mamma, ha detto Maria. Mamma ha appoggiato il piatto sulle ginocchia. Che c'è? Che succede? Niente. Mamma cercava di tagliare il formaggio, ma la mano le tremava. Non era brava a recitare. Ora mangiate, poi... Si è piegata. Ha appoggiato il piatto a terra e si è messa una mano in faccia. E ha cominciato a piangere, in silenzio. Mamma, mamma, perché piangi? Maria è scoppiata a singhiozzare. Anch'io sentivo un groppo che mi si gonfiava nella gola. Ho detto, mamma, mamma. Ha sollevato la testa e mi ha guardato con gli occhi rossi e lucidi. Che c'è? È morto. Vero? Mi ha dato uno schiaffo sulla guancia e mi ha sbatacchiato come se fossi di pezza. Nessuno è morto. Nessuno è morto, capito? Ha fatto una smorfia di dolore e ha sussurrato. Tu sei troppo piccolo. Ha spalancato la bocca e mi ha stretto al petto. Ho cominciato a piangere. Ora piangevamo tutti. Di là il vecchio urlava. Mamma l'ha sentito e si è scostata da me. Ora basta. Si è asciugata le lacrime. Ci ha dato due fette di pane. Mangiate. Maria ha affondato i denti nel pane. Ma non poteva ingoiare. Scossa come era dai singhiozzi. Mamma le ha strappato la fetta dalle mani. Non avete fame? Non fa niente. Ha preso il piatto. Mettetevi giù. Ha tirato via i cuscini e ha spento la luce. Se vi danno fastidio i rumori, infilate la testa qua sotto. Forza! Ce li ha appoggiati sul capo. Ho provato a liberarmi. Mamma, ti prego, non respiro. Ubbidite! Ha ringhiato e ha premuto forte. Maria era disperata. Sembrava che la stavano sgozzando. Finiscila! Mamma ha orlato così forte che per un istante pure di là hanno smesso di litigare. Ho avuto paura che la picchiava. Maria si è azzettita. Se ci muovevamo, se parlavamo, mamma ripeteva come un disco rotto. Shhh! Dormite! Io ho fatto finta di dormire. Io ho sperato che anche Maria facesse lo stesso. E dopo un po' si è placata pure lei. Mamma è rimasta così per tanto tempo. Ero sicuro che sarebbe stata tutta la notte con noi. Ma si è alzata. Pensava che dormivamo. Ha chiuso la porta ed è uscita. Ci siamo tolti i cuscini. Era buio. Ma il riflesso fioco del lampione in strada rischiarava la stanza. Mi sono alzato. Maria si è messa a sedere. Si è infilata agli occhiali e tirando su col naso mi ha chiesto che fai. Mi sono poggiato un dito sul naso. Zitta! Ho messo l'orecchio sulla porta. Continuavano a discutere. Più piano ora. Sentivo la voce di Felice e del vecchio ma non capivo niente. Ho provato a guardare dal buco della serratura ma si vedeva il muro. Ho afferrato la maniglia. Maria si è morsa la mano. Che fai? Sei pazzo? Zitta! Ho aperto uno spiraglio. Felice era in piedi, vicino alla cucina. Addosso portava una tuta verde. La zippa abbassata fin sotto le costole lasciava scorgere i pettorali gonfi. Aveva lo sguardo fisso e la bocca socchiusa sui dentini da latte. Si era rapato i capelli a zero. Io? Ha detto mettendosi una mano sul petto. Sì, tu? Ha fatto il vecchio. Era seduto a tavola con una gamba poggiata su un ginocchio, una sigaretta tra le dita e un sorriso perfido sulla bocca. Io sarei frocio. Ricchione? Ha chiesto Felice. Il vecchio ha confermato. Esattamente. Felice ha storto la testa. E come lo avresti scoperto? Si vede da tutto. Sei frocio. Non c'è niente da fare. Il vecchio ha fatto un tiro. Lo sai qual è la cosa peggiore? Felice ha grottato le sopracciglia interessato. No. Qual è? Sembravano due amici che si fanno confidenze segrete. Il vecchio ha spento la cicca nel piatto. È che non lo sai. Questo è il tuo problema. Sei nato frocio e non lo sai. Hai una certa età. Non sei più un pischello. Prenditi conto. Staresti meglio. Faresti quello che fanno i froci, ossia prenderlo in culo. Invece ci fai il duro, ci fai l'uomo. Parli e straparli, ma tutto quello che fai e dici suona falso, suona frocio. Papà stava in piedi e sembrava seguire il discorso, ma era da un'altra parte. Il barbiere era appoggiato alla porta, come se la casa dovesse cadere da un momento all'altro. E mamma, seduta sul divano, guardava con un'espressione vuota la televisione, con il volume a zero. Il lampadario era avvolto da una nube di moscerini che cadevano neri e stecchiti sui piatti bianchi. «Ascoltatemi! Ascoltatemi! Ridiamoglielo!» Se n'è uscito papà all'improvviso. Il vecchio lo ha guardato. Ha scosso la testa e ha sorriso. «Tu sta buono, che è meglio!» Felice ha guardato papà, poi si è avvicinato al vecchio. «Io sarò pure ricchione, ma tu intanto, pezzo di merda di un romano, ti prendi questo cazzotto!» E ha sollevato un braccio e gli ha dato un pugno in bocca. Il vecchio è stramazzato a terra. Ho fatto due passi indietro, mi sono messo le mani nei capelli. Felice aveva picchiato il vecchio. Ho cominciato a tremare e mi è salito su il vomito, ma non ho potuto fare a meno di tornare a guardare. In cucina papà urlava, «Che cazzo fai? Sei impazzito!» Aveva afferrato Felice per un braccio e cercava di tirarlo via. «Mi lì c'estava per mettersi a frignare. Io lo ammazzo!» Il vecchio era a terra, mi faceva pena. Volevo aiutarlo e non potevo. Tentava di risollevarsi, ma gli scivolavano i piedi sul pavimento e le braccia non lo sostenevano. Dalla bocca gli colava sangue e saliva. Gli occhiali che portava sulla testa ora stavano sotto il tavolo. Continuavo a guardargli quei polpacci bianchi, secchi e senza peli che spuntavano dai pantaloni di tela azzurra. Si è attaccato con le mani al bordo del tavolo e lentamente si è tirato su e si è messo in piedi. Ha preso un tovagliolo e se l'è premuto sulla bocca. Mamma piangeva sul divano. Il barbiere era inchiodato alla porta come se avesse visto il diavolo. Felice ha fatto due passi verso il vecchio, nonostante papà cercasse di trattenerlo. «Allora, secondo te questo è un pugno di un ricchione, eh? Dimmi un'altra volta che sono ricchione e giuro che da terra non ti rialzi mai più». Il vecchio si è seduto su una sedia e con il tovagliolo si tamponava uno spacco enorme sul labbro. Poi ha sollevato la testa e ha guardato fisso felice e ha detto con voce ferma «Se sei un uomo, dimostralo, allora». Un lampo malvagio gli è balenato nello sguardo. Avevi detto che lo facevi tu e ti sei rimangiato tutto. Come dicevi, io lo apro come un agnello, non c'è problema, io non ho paura, io sono paracadutista, io qua, io là. Chiacchierone, sei solo un chiacchierone. Sei peggio di un cane, non sei buono nemmeno a fare la guardia a un bambino. Ha sputato un fiotto di sangue sul tavolo. «Pezzo di merda!» ha piagnucolato felice trascinandosi dietro papà. «Io non lo faccio! Perché lo devo fare io? Perché?» Sulle guance sbarbate gli scendevano due rivoli di lacrime. «Aiutami! Aiutami!» ha urlato papà al padre di Barbara e il barbiere si è avventato su felice. In due riuscivano a malapena a tenerlo fermo. «Io non lo faccio, stronzo!» ha ripetuto felice. «Io non ci vado in galera per te! Scordatelo!» «Ora lo uccide», mi sono detto. Il vecchio si è messo in piedi. Lo faccio io, allora. Ma sta tranquillo, che tanto se me ne scendo io, te ne scendi pure tu. Ti porto giù con me, pezzente. Ci puoi stare sicuro. «Mi porti dove, romano di merda!» Felice si è fatto avanti a testa bassa. Papà e il barbiere hanno cercato di trattenerlo, ma lui se li è scrollati di dosso come forfora e si è avventato di nuovo sul vecchio. Il vecchio ha tirato fuori la pistola dai pantaloni e gliel'ha appoggiata sulla fronte. Prova a colpirmi un'altra volta. «Provaci! Fallo, dai! Ti prego, fallo!» Felice si è immobilizzato, come se giocasse a un due e tre stella. Papà si è messo in mezzo. «State calmi! Basta! Avete rotto i coglioni tutti e due!» E li ha divisi. «Provaci!» Il vecchio si è cacciato la pistola sotto la cinta. Sulla fronte di felice è rimasto un cerchietto rosso. Mamma, seduta in un angolo, piangeva e ripeteva con la mano sulla bocca. «Piano! Fate piano! Fate piano! Fate piano!» Perché gli vuole sparare? Mi sono voltato. Maria si era alzata e stava alle mie spalle. «Torna al letto!» Le ho urlato sottovoce. Ha fatto di no con la testa. «Maria, torna al letto!» Mia sorella ha strizzato la bocca e ha fatto no. «Ho sollevato la mano stavo per darle un ceffone, ma mi sono trattenuto!» «Torna al letto e non provare a piangere!» Ha ubbidito. Papà intanto era riuscito a metterli seduti. Lui invece continuava a camminare con gli occhi lucidi. Una luce folle gli si era accesa dentro. «Basta! Facciamo la conta! Quanti siamo? Quattro! Alla fine di tutti quelli che eravamo siamo rimasti in quattro, i più fessi!» «Meglio! Chi perde lo ammazza! È tanto facile! E si piglia l'ergastolo!» Ha detto il barbiere, mettendosi una mano sulla fronte. «Bravo!» Il vecchio batteva le mani. «Vedo che cominciamo a ragionare!» Papà ha preso una scatola di fiammiferi e l'ha mostrata a tutti. «Ecco qua! Facciamo un gioco! Lo conoscete il tocco del soldato?» Ho chiuso la porta. Conoscevo quel gioco. Nel buio ho trovato la maglietta e i pantaloni e me li sono infilati. Dove erano finiti i sandali? Maria era sul letto e mi guardava. «Che fai?» «Niente!» Erano in un angolo. «Dove stai andando?» Me li sono infilati. «In un posto!» «Lo sai una cosa? Tu sei cattivo! Molto cattivo!» Sono salito sul letto e da lì sul davanzale. «Che fai?» «Ho guardato di sotto. Vado da Filippo!» Papà aveva parcheggiato il lupetto sotto la nostra finestra, per fortuna. «Chi è Filippo? È un amico mio!» Era alto e il telone era marcio. Papà diceva sempre che ne doveva comprare uno nuovo. Se ci fossi caduto sopra di piedi, si sarebbe strappato e mi sarei schiantato sul pianale del camion. «Se lo fai lo dico a mamma!» L'ho guardata. «Stai tranquilla. C'è il camion. Tu dormi. Se viene mamma...» Che doveva dirle? «Dille...» Dille quello che ti pare. «Ma si arrabbia! Non importa!» Mi sono fatto il segno della croce. Ho trattenuto il respiro. Ho fatto un passo e mi sono lasciato cadere a braccia aperte. Sono finito di schiena al centro del telone senza farmi neanche un graffio. Reggeva. Maria si è affacciata alla finestra. «Torna presto! Ti prego!» Torno subito, non ti preoccupare. Sono salito sulla cabina di guida e da lì sono sceso a terra. La strada era tetra, come quella notte senza stelle. Le case erano scure e silenziose. Le uniche finestre illuminate erano quelle di casa mia. Il lampione vicino alla fontana era circondato da una palla di muscirini. Il cielo si era coperto di nuovo e acqua traversa era avvolta da una coltre nera e spessa di tenebre. Ci dovevo entrare dentro per arrivare alla fattoria di Melichetti. Dovevo farmi coraggio. Tiger Jack. Pensa Tiger Jack. L'indiano mi avrebbe aiutato. Prima di fare una mossa dovevo pensare a cosa avrebbe fatto l'indiano al posto mio. Questo era il segreto. Sono corso dietro casa a prendere la bicicletta. Il cuore già mi martellava il petto. Red Dragon era appoggiata tutta spavalda e colorata sulla scassona. Stavo per prenderla ma mi sono detto che sono impazzito. Con questo trabicolo cretino dove vado? Volavo sulla vecchia scassona. Mi incitavo. Vai Tiger, vai! Ero immerso nell'inchiostro. La strada la vedevo appena e quando non la vedevo me la immaginavo. Ogni tanto il diore fiacco della luna riusciva a diffondersi nella trapunta di nuvole che copriva il cielo e allora scorgevo per qualche istante i campi e le sagome nere delle colline ai lati della carreggiata. Stringevo i denti e contavo le pedalate. Uno, due, tre, respiro. Uno, due, tre, respiro. Le gomme frusciavano sul pietrisco. Il vento mi si appiccicava in faccia come un panno caldo. Il richiamo stridulo di una civetta. L'abbaio di un cane lontano. C'era silenzio ma sentivo lo stesso i loro bisbilli nelle tenebre. Me li immaginavo ai bordi della strada. Degli esseri piccoli con le orecchie da volpe e gli occhi rossi che mi osservavano e discutevano tra loro. Guarda, guarda un ragazzino che ci fa di notte da queste parti. Pigliamolo. Sì, sì, è buono. Pigliamolo. E dietro c'erano i signori delle colline, i giganti di terra e spighe che mi seguivano aspettando solo che finivo fuoristrada per venirmi sopra e seppellirmi. Li sentivo respirare. Facevano lo stesso suono del vento nel grano. Il segreto era rimanere al centro della strada, ma dovevo essere pronto a tutto. Lazzaro non aveva paura di niente. Lo vedrai, mi sono detto. Nella notte Lazzaro era luminoso. Si accendeva e si spegneva come l'insegna del bar La Perla di Lucignano. E quando si accendeva si vedevano le formiche camminarli nelle vene. Non andava veloce. Di questo ero sicuro. E se si fosse messo a correre sarebbe caduto a pezzi. L'importante era passargli a lato, senza fermarsi, senza rallentare. Filippo, sto arrivando. Filippo arrivo, mi ripetevo anzimando di fatica. Mentre mi avvicinavo alla fattoria, un terrore nuovo, ancora più soffocante, mi cresceva dentro. Sulla nuca avevo i capelli dritti come aghi. I maiali di Melichetti. I signori delle colline e compagnia bella mi terrorizzavano, ma sapevo che non esistevano, che me li inventavo io, che non ne potevo parlare con nessuno perché mi avrebbero preso in giro. Dei maiali invece ne potevo parlare benissimo perché esistevano veramente ed erano affamati. Di carne viva. Il bassotto ha provato a scappare, ma i maiali non gli hanno dato scampo. Massacrato in due secondi. Così aveva detto il teschio. Forse di notte Melichetti li lasciava liberi. Si aggiravano intorno alla fattoria, enormi, cattivi, con le zanne affilati e i nasi all'aria. Più mi tenevo lontano da quelle bestiacce meglio era. In lontananza una luce fioca e apparsa nelle tenebre. La fattoria. Ero quasi arrivato. Ho frenato. Il vento non c'era più. L'aria era ferma e calda. Dalla gravina poco distante arrivava il suono dei grilli. Sono sceso dalla bicicletta e l'ho buttata tra i rovi, accanto alla strada. Non si vedeva niente. Avanzavo veloce respirando appena e continuavo a gettarmi occhiate alle spalle. Temevo che l'artiglio affilato di un mostro mi affondasse nel collo. Ora che ero a piedi c'erano un sacco di rumori. Fruscii, tonfi, suoni strani. Intorno avevo una massa nera e compatta che premeva contro la strada. Mi sono bagnato le labbra secche. Avevo un sapore amaro in bocca. Il cuore mi martellava in gola. Ho poggiato la suola del sandalo su una roba viscida. Ho sobbalzato. Ho lanciato un gridolino strozzato e sono finito a terra grattugiandomi un ginocchio. Chi è? Chi è? Ho balbettato e mi sono appallottolato, aspettandomi di essere avviluppato dai tentacoli gelatinosi e urticanti di una medusa. Due tonfi sordi e un... Un rospo. Avevo pestato un rospo del grano. Quel cretino si era messo in mezzo alla strada. Mi sono rialzato e zoppicando ho proseguito verso la lucina. Non mi ero portato neanche una torcia. Avrei potuto prendere quella che stava nel camion di papà. Quando sono arrivato ai bordi del cortile mi sono nascosto dietro un albero. La casa era un centinaio di metri. Le finestre erano buie. Solo una lampadina pendeva di fianco alla porta e illuminava un pezzo di muro scrostato e il dondolo arrugginito. Poco oltre, nell'oscurità, c'erano i recinti dei maiali. Già da lì sentivo l'odore ributtante dei loro escrementi. Dove poteva stare Filippo? Giù nella gravina, aveva detto Salvatore. Dentro quel lungo canalone c'ero andato un paio di volte d'inverno con papà a cercare i funghi. Era tutto rocce, buchi e pareti di pietra. Se passavo per i campi, arrivavo sul bordo della gravina e da lì potevo scendere sul fondo senza dovermi avvicinare troppo alla casa. ero un buon piano. Ho attraversato il campo di corsa. Avevano tagliato il grano. Di giorno senza le spighe mi avrebbero visto, ma ora senza la luna ero al sicuro. Mi sono fermato sul pizzo del burrone. Sotto era così nero che non mi rendevo conto di quanto era scoscesa la roccia. Se era liscia o se c'erano degli appigli. Continuavo a maledirmi per non essermi portato la torcia. Non potevo scendere di lì. Rischiavo di farmi male. L'unica era avvicinarsi alla casa. In quel punto la gravina era più bassa e c'era una stradina che andava giù tra le rocce. Ma lì c'erano anche i maiali. Ero coperto di sudore. I maiali hanno il migliore odorato del mondo, altro che i segugi, diceva il padre del teschio, che era cacciatore. Non potevo passare di lì. Mi avrebbero sentito. Cosa avrebbe fatto Tiger Jack al posto mio? Li avrebbe affrontati? Li avrebbe massacrati con il suo Winchester e li avrebbe trasformati in salsicce da rostire sul fuoco insieme a Tex e a capelli d'argento? No, non era nel suo stile. Cosa avrebbe fatto? Pensa, mi sono detto. Sforzati. Avrebbe cercato di levarsi l'odore umano di dosso. Questo avrebbe fatto. Gli indiani quando andavano a caccia di bufali si spalmavano di grasso e si mettevano sulla schiena le pellicce. Ecco cosa dovevo fare. Mi dovevo spalmare di terra. Non di terra. Di merda. Meglio. Se puzzavo di merda non si sarebbero accorti di me. Mi sono avvicinato il più possibile alla casa, rimanendo nel buio. La puzza aumentava. Oltre ai grilli sentivo qualcos'altro. Una musica. Note di pianoforte. E una voce roca che cantava. Onda su onda. Il mare mi ha portato qui. Melichetti era un cantante. Qualcuno stava seduto sul dondolo. A terra, vicino, c'era una radio. O era Melichetti o sua figlia Zoppa. L'ho spiato un po'. Acquattato dietro dei vecchi pneumatici di trattore. Sembrava morto. Mi sono avvicinato di più. Era Melichetti. La testa rinsecchita abbandonata su un cuscino lurido. La bocca aperta e la doppietta sulle ginocchia. Russava così forte che anche da là riuscivo a sentirlo. Via libera. Sono uscito allo scoperto. Ho fatto qualche passo e i latrati acuti di un cane hanno stracciato il silenzio. Per un istante i grilli si sono zittiti. Il cane. Mi ero scortato del cane. Due occhi rossi correvano nell'oscurità. Si tirava dietro la catena e abbaiava tutto strozzato. Mi sono tuffato a pesce nelle stoppie. Che c'è? Che hai? Che ti ha preso? Ha sobbalzato Melichetti. Stava sul dondolo e girava la testa come un gufo. Tiberio! Buono! Stai buono Tiberio! Ma la bestia non la finiva più di abbaiare. Allora Melichetti si è stiracchiato, si è messo il collare ortopedico e si è tirato su. Ha spento la radio e ha acceso la torcia. Chi c'è? Chi c'è? C'è qualcuno? Ha urlato al buio e si è fatto un paio di giri svogliati per il cortile con la doppietta sotto il braccio, puntando il fascio di luce intorno. È ritornato indietro brontolando. Piantala di fare questo casino. Non c'è nessuno. L'animale si è schiacciato a terra e ha preso a ringhiare tra i denti. Melichetti è entrato in casa sbattendo la porta. Mi sono tenuto il più lontano possibile dal cane e mi sono avvicinato alla porcilaia. Scorgevo nelle tenebre le sagome squadrate dei recinti. Il puzzo acre aumentava e mi grattava la bocca. Mi dovevo mimetizzare. Mi sono tolto la maglietta e i pantaloncini. In mutande ho immerso le mani nella terra insuppata di piscia e storcendo il naso mi sono cosparso il busto, le braccia, le gambe e la faccia di quella pappa schifosa. «Vai, Tiger! Vai! E non ti fermare!» Ho sussurrato e ho cominciato ad avanzare a quattro zampe. Faticavo. Affondavo con le mani e con le ginocchia nel fango. Il cane ha ripreso ad abbaiare. Mi sono ritrovato tra due recinti. Davanti a me c'era un corridoio largo, meno di un metro, che si perdeva nell'oscurità. Li sentivo. Erano lì. Facevano dei versi bassi e profondi che assomigliavano allo ruggito di un leone. Avvertivo la loro forza nel buio. Si muovevano in branco e pestavano con gli zoccoli e le sbarre vibravano per le spinte. «Vai avanti e non ti girare!» mi sono ordinato. Pregavo che la mia armatura fatta di merda funzionasse. Se uno di quei bestioni infilava il muso tra le sbarre, con un morso mi staccava una gamba. Vedevo la fine del recinto, quando c'è stato uno scalpiccio improvviso e dei grugniti come se litigassero. Non ho potuto fare a meno di guardare. Ho un metro. Due occhi gialli e maligni mi osservavano. Dietro quei piccoli farici dovevano essere centinaia di chili di muscoli, carne e setole e unghie, zanne e fame. Ci siamo fissati per un istante infinito. Poi l'essere ha fatto uno scatto e ha avuto la certezza che avrebbe abbattuto il recinto. Ho urlato e sono saltato in piedi e sono corso e sono scivolato nell'etame e mi sono rialzato. Ho ricominciato a correre a bocca aperta, nel nero, stringendo a morte i pugni e a un tratto ero in aria. Volavo. Il cuore mi è finito in bocca e le budella mi si sono chiuse in un pugno di dolore. Avevo superato il bordo della gravina. Precipitavo nel vuoto. Sono finito un metro più sotto, tra i rami di un ulivo che cresceva sbilenco tra le rocce scoscese e sollevava la chioma sopra lo strapiombo. Mi sono abbrancato a un ramo. Se non ci fosse stato quell'albero benedetto a fermare la mia caduta, mi sarei spiaccicato sulle rocce, come Francesco. Uno spicchio di luna si era aperto un varco attraverso le nuvole livide e riuscivo a vedere sotto di me quella lunga ferita nella campagna. Ho provato a girarmi, ma il tronco ondeggiava, come un pennone. Ora si spezza, mi sono detto. Finisco giù con tutto l'albero. Mi tremavano le mani e le gambe e a ogni movimento avevo la sensazione di scivolare giù. Quando finalmente ho stretto tra le dita la roccia, ho ripreso aria. Sono risalito sul bordo della gravina. Era profonda e si sviluppava a destra e a sinistra per diverse centinaia di metri. Dentro era tutto buchi, anfratti e alberi. Filippo poteva essere dovunque. Alla mia destra partiva un viottolo che si insinuava ripido tra le rocce bianche. C'era un palo conficcato nella terra, a cui era legata una corda consumata che doveva servire a Melichetti per aiutarsi a scendere. Mi ci sono attaccato e ho seguito il sentiero scosceso. Dopo pochi metri sono arrivato su un terrapieno coperto di sterco. Era recintato da un parapetto fatto con dei rami legati tra loro. A uno spuntone erano appesi dei vestiti, delle corde e delle falci. Poco più in là erano ammucchiati dei pali di legno. Legate a una radice che spuntava dal terreno, c'erano tre caprette e una capra più grande. Mi fissavano. Gli ho detto, invece di guardarmi come delle cretine, ditemi dove sta Filippo. Un'ombra nera e silenziosa mi è calata addosso dal cielo. Mi è passata sopra. Mi sono riparato la testa con le mani. Una civetta. È risalita. Si è dissolta nel nero. Poi è scesa di nuovo verso il terrapieno ed è ritornata in cielo. Strano. Erano uccelli buoni. Perché mi attaccava? Me ne vado, me ne vado, ho sussurrato. La stradina proseguiva. E io ho ripreso la discesa reggendomi alla corda. Dovevo camminare rannicchiato e tastare con le mani gli ostacoli che mi si paravano davanti come fanno i ciechi. Quando sono arrivato in fondo alla gola sono rimasto a bocca aperta. I cespugli di pungitopo, i cardi, corbezzoli, i muschi e le rocce erano coperti di puntini luminosi che pulsavano come piccoli fari nella notte. Lucciole. Le nubi si erano diradate. E una mezzaluna tingeva di giallo la gravina. I grili cantavano. Il cane di Melichetti aveva smesso di abbaiare. C'era pace. Di fronte a me cresceva un boschetto di ulivi e dietro, sull'altro versante della gola, si apriva una stretta spaccatura nella pietra. Da dentro usciva un odore acido, di sterco. Sono entrato appena e ho sentito movimenti e belati. Un tappeto di pecore. Le avevano chiuse dentro la grotta con una rete metallica. Erano stipate come sardine. Spazio per Filippo non ce n'era. Sono tornato sull'altro versante ma non riuscivo a trovare buchi, tane dove nascondere un bambino. Quando mi ero buttato giù dalla finestra non mi era nemmeno passato per la testa, che forse non riuscivo a trovarlo. Mi bastava attraversare il buio e non farmi mangiare dai maiali. E lui era lì. Non era così. Quella gravina era lunghissima e Filippo potevano averlo messo da un'altra parte. Ero avvilito. «Filippo, dove sei?» Ho urlato, ma molto piano. Melichetti mi poteva sentire. «Rispondimi, dove sei? Rispondimi!» Niente. Mi ha risposto solo una civetta. Faceva un verso strano. Sembrava che dicesse «tutto mio, tutto mio, tutto mio». Poteva essere la stessa che mi aveva attaccato prima. Non era giusto. Avevo fatto tutta quella strada. Avevo rischiato la vita per lui e lui non si faceva trovare. Ho cominciato a correre avanti e indietro, tra le rocce e gli olivi, a caso, mentre mi pigliava la disperazione. Per la rabbia ho afferrato un ramo da terra e ho cominciato a batterlo contro una roccia, fino a spellarmi le mani. Poi mi sono seduto. Scuotevo il capo e cercavo di allontanare il pensiero che tutto era stato inutile. Ero scappato di casa come uno scemo. Papà doveva essere infuriato. Mi avrebbe ammazzato di botte. Si dovevano essere accorti che non c'ero in camera mia. E anche se non lo avevano scoperto, tra poco arrivavano lì per uccidere Filippo. Papà e il vecchio davanti, felice e il barbiere dietro. A tutta velocità, nel buio. Sulla macchina grigia, con il mirino sul cofano, schiacciando con le ruote e rospi. «Michele, che aspetti? Torna a casa», mi ha ordinato la voce di Maria. «Torno», ho detto. Avevo fatto quello che potevo e lui non si era fatto trovare. Non avevo colpe. Dovevo muovermi in fretta. Potevano arrivare da un momento all'altro. Se correvo senza fermarmi mai, forse arrivavo a casa prima che loro uscivano. Nessuno si sarebbe accorto di nulla. Sarebbe stato bello. Mi sono arrampicato veloce tra le rocce, ripercorrendo la strada già fatta. Ora che c'era un po' di luce era più facile. La civetta volteggiava sopra il terrapieno. E quando passava davanti alla luna, vedevo la sagoma nera, le ali larghe e corte. «Ma che vuoi?» Sono passato sul terrapieno, di corsa, vicino alle caprette, e l'uccello ha picchiato di nuovo. Mi sono allontanato e mi sono voltato a guardare quella civetta pazza. Continuava a volteggiare sul terrapieno. Sfiorava la catasta di pali appoggiati contro la roccia. Facevo un giro e tornava indietro. Testarda. «Ma perché faceva così?» «C'era un topo?» «No». «Cosa allora?» «Il nido?» «Certo, il nido. I piccoli. Anche le rondini, se li butti giù il nido, continuano a girare in tondo fino a quando non muoiono di stanchezza. A quella civetta gli avevano coperto il nido. E le civette fanno il nido nei buchi. I buchi!» Sono tornato indietro e ho cominciato a spostare i pali accatastati con la civetta che mi sfiorava. «Aspetta, aspetta!» le ho detto. Nascosta alla buona c'era un'apertura nella roccia. Una bocca ovale, larga, come la ruota di un camion. La civetta ci si è infilata dentro. Era nero come la pece. E c'era odore di legna bruciata e cenere. Non capivo quanto era profondo. Ci ho infilato la testa e ho chiamato. «Filippo!» Mi ha risposto l'eco della mia voce. «Filippo!» Mi sono affacciato di più. «Filippo!» Ho aspettato. Nessun rumore. «Filippo, mi senti?» Non c'era. Non c'è. «Corri a casa», mi ha ripetuto la voce di mia sorella. Ho fatto tre passi quando ho avuto l'impressione di sentire un lamento. Un gemito, sordo. Me l'ero immaginato. Sono tornato indietro e ho cacciato la testa nel buco. «Filippo!» «Filippo, ci sei!» E dal buco è uscito un... «Filippo, sei tu!» Era lì. Ho sentito un peso che mi si scioglieva nel petto. Mi sono appoggiato alla roccia e sono scivolato giù. Sono rimasto lì seduto, abbandonato su quel terrapieno coperto di cacche e di capra, con il sorriso sulla bocca. Lo avevo trovato. Mi veniva da piangere. Mi sono asciugato gli occhi con le mani. Mi sono alzato. Arrivo! Arrivo subito! Hai visto? Sono venuto. Ho mantenuto la promessa. Hai visto? Una corda. Ne ho trovata una, arrotolata accanto alle falci. L'ho legata alla radice dove stavano le capre e l'ho gettata nel buco. «Ecomi!» Mi sono calato dentro. Il cuore pompava così forte da farmi tremare il petto e le braccia. Le tenebre mi davano le vertigini. Mi mancava l'aria. Sembrava di stare nel petrolio. E faceva freddo. Non ho fatto neanche due metri che ho toccato terra. Era pieno di pali, pezzi di legno, cassette dei pomodori ammassati. Carponi con le mani avanti tastavo il buio. Ero nudo e tremavo per il gelo. «Filippo, dove sei?» «Mmm! Mmm!» Gli avevano tappato la bocca. «Sto!» Un piede mi si è infilato tra i rami. Sono scivolato a braccia in avanti sopra delle fascine piene di spine. Una fitta guzza di dolore mi ha azzannato la caviglia. Ho urlato e un rigurgito caldo e acido di bile mi è salito su. Una vampata ghiacciata mi ha spazzato la schiena e ho sentito le orecchie in fiamme. Con le mani che tremavano ho tirato fuori il piede incastrato. Il dolore mi premeva dentro la caviglia. «Mi sa che ho preso una storta!» Ho rantolato. «Dove stai?» «Mmm! Mmm!» Mi sono trascinato a denti stretti verso il gemito e l'ho trovato. Era sotto le fascine. Gli le ho tolte di dosso e l'ho tastato. Era steso a terra, nudo. Aveva le braccia e le gambe legate con lo scotch da pacchi. «Mmm! Mmm!» Gli ho messo le mani sulla faccia. Anche sulla bocca aveva lo scotch. «Non puoi parlare! Aspetta, te lo levo! Forse ti faccio un po' male!» Gli l'ho strappato via. Non ha urlato, ma ha cominciato ad ansimare. «Come stai?» Non ha detto niente. «Filippo, come stai? Rispondimi!» Ansimava come il bracco morso dalla vipera. «Ti senti male?» Gli ho toccato il petto. Si gonfiava e si sgonfiava troppo in fretta. «Ora andiamo via! Andiamo via! Aspetta!» Ho provato a slegargli i polsi e le caviglie. Era stretto. Alla fine, con i denti, disperato, ho cominciato a segare lo scotch. Gli ho liberato prima le mani e poi i piedi. «Ecco fatto! Andiamo!» Gli ho preso un braccio, ma il braccio è ricaduto senza forze. «Mettiti dritto, ti prego! Dobbiamo andare! Stanno arrivando!» Cercavo di tirarlo su, ma ricadeva giù come un burattino. Non c'era più un briciolo di energia in quel corpicino esausto. Non era morto solo perché continuava a respirare. «Io non ti posso portare su! Mi fa male la gamba! Ti prego, Filippo, aiutami!» L'ho preso per le braccia. «Dai! Dai!» L'ho messo seduto, ma appena l'ho lasciato si è afflosciato a terra. «Che devo fare? Non lo capisci che ti sparano se resti qua?» Un gruppo mi otturava la gola. «Muori così, scemo! Brutto scemo! Io sono venuto qui per te! Fino a qua! Io la promessa l'ho mantenuta! E tu? E tu?» Sono scoppiato a piangere. Ero scosso dai singhiozzi. «Ti devi alzare, stupido! Stupido che non sei altro!» Ci ho riprovato ancora e ancora, testardo, ma si è lasciato andare nella cenere, con il capo tutto piegato come una gallina morta. «Alzati! Alzati!» Ho urlato e l'ho preso a pugni. Non sapevo che fare, mi sono accucciato con la testa sulle ginocchia. «Non sei ancora morto, lo capisci?» Sono rimasto così a piangere. «Questo non è il paradiso!» Per un istante ha smesso di ansimare e ha bisbigliato qualcosa. Ho avvicinato l'orecchio alla bocca. «Cosa hai detto?» Ha sussurrato. «Non ce la faccio!» L'ho scosso. «Come non ce la fai?» «Non ce la faccio!» «Scusami!» «Sì che ce la fai!» «Sì!» Non parlava più. L'ho abbracciato. Coperti di fango, tremavamo di freddo. Non c'era più niente da fare. Non ce la facevo neanch'io. Mi sentivo stanco da morire, stremato. La caviglia continuava a battere. Ho chiuso gli occhi. Il cuore ha cominciato a rilassarsi. E senza volerlo mi sono addormentato. Ho riaperto gli occhi. Era buio. Per un secondo ho creduto di essere a casa, nel mio letto. Poi ho sentito il cane di Melichetti abbaiare. E delle voci. Erano arrivati. «L'ho strattonato! Filippo! Filippo, stanno qua! Ti vogliono ammazzare! Alzati!» Ha ansimato. «Non posso!» «Sì, invece! Ci scommetti?» Mi sono inginocchiato e con le mani l'ho spinto in avanti, tra i rami, fregandomene del male. Mio, suo. Dovevo portarlo fuori da quel buco. Le fascine mi graffiavano, ma ho continuato a spingere, stringendo i denti, fino sotto la bocca, nella roccia. Le voci erano vicine e un bagliore balenava sulle fronde degli alberi. L'ho acchiappato per le braccia. Ora devi metterti in piedi. Lo devi fare. E basta! L'ho tirato su. Mi si è aggrappato al collo. Si è messo dritto. «Hai visto? Stupido! Hai visto che ti sei messo in piedi, eh? Ora però devi salire. Io ti spingo da sotto, ma tu ti devi attaccare al buco!» Ha preso a tossire. Sembrava che dentro il petto gli schizzassero dei sassi. Quando finalmente ha smesso, ha scosso la testa e ha detto «senza te non vado!» «Come? Senza te non vado!» Lo abbracciavo come fosse un fantoccio. «Non fare il cretino! Arrivo subito!» Ora sembravano lì. Il cane abbaiava sopra la mia testa. «No! Tu invece te ne vai, hai capito?» Se lo mollavo, crollavo a terra. L'ho preso tra le braccia e l'ho spinto verso l'alto. «Prendi la corda! Forza!» E l'ho sentito più leggero. Si era attaccato. Quel bastardo alla fine si era attaccato alla corda. Era su di me. Poggiavi i piedi sulle mie spalle. «Ora ti spingo, ma tu continua a tirarti su, con le braccia, capito? Non mollare!» Ho visto la sua piccola testa avvolta dalla luce pallida del buco. «Sei arrivato! Ora tirati fuori!» Ci ha provato. Lo sentivo che si sforzava inutilmente. «Aspetta! Ti aiuto io!» Ho detto, afferrandolo per le caviglie. «Ti do una spinta! Tu buttati!» Ho fatto forza sulle gambe e stringendo i denti l'ho lanciato fuori e l'ho visto sparire inghiottito dalla bocca. Nello stesso istante ho sentito come un lungo chiodo appuntito conficcarsi dentro l'osso della caviglia, fino al midollo, e una fitta tagliente di dolore attraversarmi come una scossa la gamba fino all'inguine, e sono crollato giù. «Michelle, Michelle, ce l'ho fatta! Vieni!» Ho ruttato aria acida. «Arrivo! Arrivo subito!» Ho provato ad alzarmi, ma la gamba non rispondeva più. Da terra ho cercato di acchiappare la corda senza riuscirci. Sentivo le voci sempre più vicine, il rumore dei passi. «Michelle, vieni! Arrivo!» La testa mi girava, ma mi sono messo in ginocchio. Non ce la facevo a tirarmi su. «Ho detto, Filippo, scappa!» Si è affacciato. «Sali! Non ce la faccio! La gamba! Scappa tu!» Ha fatto no con la testa. «No! Non vado!» La luce alle sue spalle era più forte. «Scappa! Stanno qui! Scappa! No! Te ne devi andare! Ti prego, vattene! No!» Ho urlato e implorato. «Vattene! Vattene! Se non te ne vai ti ammazzano! Lo vuoi capire?» Si è messo a piangere. «Vattene! Vattene via! Ti prego, ti scongiuro! Vattene via! E non ti fermare! Non ti fermare mai! Mai più! Nasconditi!» Sono caduto a terra. «Non ce la faccio!» Ha detto. «Ho paura! No, tu non hai paura! Non hai paura! Non c'è niente da avere paura! Nasconditi!» Ha fatto sì con la testa ed è scomparso. Da terra ho cominciato a cercare la corda nel buio. L'ho sfiorata, ma l'ho perduta. Ci ho riprovato, ma era troppo in alto. Attraverso il buco ho visto papà. In una mano teneva una pistola, nell'altra una pila elettrica. Aveva perso, come al solito. La luce mi ha accecato. Ho chiuso gli occhi. «Papà, sono io! Sono Michele!» Poi c'è stato il bianco. Ho aperto gli occhi. La gamba mi faceva male. Non era la gamba di prima. L'altra. Il dolore era una pianta rampicante. Un filo spinato che si attorciglia le budella. Una cosa travolgente. Rossa. Una diga che si è rotta. Niente può arginare una diga che si è rotta. Un rombo montava. Un rombo metallico che cresceva e copriva tutto. Mi pulsava nelle orecchie. Ero bagnato. Mi sono toccato la gamba. Una cosa densa e calda mi impiastricciava tutto. Non voglio morire. Non voglio! Ho aperto gli occhi. Ero in un vortice di paglia e luci. C'era un elicottero. E c'era papà. Mi teneva tra le braccia. Mi parlava, ma non sentivo. I capelli gli brillavano mossi dal vento. Luci mi accecavano. Dalle tenebre spuntavano esseri neri e cani. Venivano verso di noi. I signori della collina. Papà. Stanno arrivando. Scappa. Scappa. Sotto il rombo il cuore mi marciava nel petto. Ho vomitato. Ho aperto gli occhi di nuovo. Papà piangeva. Mi accarezzava. Le mani rosse. Una figura scura si è avvicinata. Papà lo ha guardato. Papà devi scappare. Nel rombo papà ha detto. Non l'ho riconosciuto. Aiutatemi vi prego. È mio figlio. È ferito. Non l'ho. Ora era di nuovo buio. E c'era papà. E c'ero io.